C'è un'esperienza di collaborazione maturata in ambito interuniversitario? Non soltanto dalla nostra regione. L'iniziativa è University Share e prevede una collaborazione tra diversi atenei e diverse pratiche innovative. L'intendimento era quello di sostenere la scienza aperta. L'orientamento era questo semplicemente perché dovevamo rispondere a una domanda che in qualche modo era scaturita da questa crisi, iniziata già alla fine dello scorso secolo. Perché il mercato della comunicazione scientifica, il mercato editoriale ha subito fortissime pressioni a partire già alla fine del XX secolo. In qualche modo quindi anche inducendo a usare gli strumenti anche innovativi che avevano anche accelerato una serie di transizioni in atto, portando a ulteriore formazione di monopoli rispetto ai quali bisognava in qualche modo anche dare una risposta. ha indotto sia il mondo delle biblioteche sia anche le comunità scientifiche a trovare delle soluzioni di concerto tra loro. e noi abbiamo avviato questa iniziativa prima all'interno di singoli atenei, all'interno di singoli atenei, anche per impulso dalla conferenza dei lettori dell'università italiane, sono nate, diciamo così, all'interno delle singole strutture, iniziative anche di promozione della scienza aperta. A partire dal 2013 abbiamo cominciato a federarci innanzitutto su base regionale e interregionale. In qualche modo abbiamo stretto una cooperazione tra tutte le università della Campania, è sopraggiunta soltanto in un secondo momento su Rorsola Benincasa, che non aveva potuto aderire immediatamente, è la seconda università, ma ormai già da diversi anni fanno parte del nostro gruppo. Del nostro gruppo fa parte anche l'università della Basilicata, l'università di Lecce, l'università di Cassino, ha già reso disponibili riviste e anche collane editoriali sulle nostre piattaforme, e in questo momento sta considerando la possibilità di aderire. Questo vi fa intendere immediatamente però, come dire, il contesto in cui poi noi sostanzialmente ci muoviamo. È un contesto di massima attenzione al territorio. Ci siamo innanzitutto federati tra Atenei, della regione, poi abbiamo gradualmente ampliato, e poi naturalmente, in un contesto qual è quello della comunicazione scientifica, in cui noi ci muoviamo, non ci si può, come dire, limitare al territorio, o meglio, il territorio deve essere saldato a contesti più ampi, perché inevitabilmente i contesti in cui la comunicazione deve essere rilanciata non possono essere esclusivamente locali, anche se la fruizione a livello locale naturalmente è anche essenziale. Quindi rapporto con il territorio regionale, rapporto con un territorio interregionale e possibilmente anche su scala nazionale, ma poi soprattutto, lo vedremo anche da un momento, confronto, diciamo così, anche tra realtà del tutto esterne, e anche gli stati in azione, perché la comunicazione c'è in contesti così limitati. Allora, il nostro impegno e anche il nostro obiettivo era di far dialogare questi diversi piani, perché poi anche dal confronto con queste realtà del tutto esterne alla nostra, e vedremo tra un momento anche questa collaborazione, come poi si è sviluppata con alcune, con le maggiori università del Nord America, in qualche modo viene per noi anche una spinta a rivedere determinate pratiche. Allora, intanto il progetto SHARE che cosa include? E qui entra immediatamente in gioco il territorio, il riconoscimento di tutti quanti gli utenti dei nostri atenei come utenti interni, anche naturalmente gli utenti della Università di Lecce, l'Università della Basilicata e via dicendo. Quindi in qualche modo una dimensione è fortemente anche legata al territorio, attraverso l'adozione poi di modelli organizzativi improntati alla cooperazione, da tutti i punti di vista. E questo è essenziale perché volendosi anche muovere in questi contesti, la cooperazione è la base essenziale per poter in qualche modo dialogare. Se in qualche modo si resta chiusi all'interno della propria istituzione, non si va molto lontano. Perché anche, come dire, le strutture dotate di maggiore capacità di impatto all'esterno, sono, come dire, una sorta di pulviscolo, quasi invisibile, se ci si muove in questi contesti che sono fortemente globalizzati. E quindi in qualche modo il confronto poi con realtà più ampie, naturalmente per noi è stato anche estremamente interessante. Allora, che cosa abbiamo concretamente realizzato? Un catalogo in LinkedIn Open Data, su questo poi ovviamente, e nel 2013 era, quando è stata progettata la cosa, qualcosa che nessuno aveva fatto, da nessuna parte, anche perché poi era anche un catalogo in LinkedIn che consentiva la navigabilità del catalogo. che non è stata progettata. E questa poi è la caratteristica, standard. Però noi volevamo che sia legibile dall'occhio umano, diciamo così, non attraverso, non soltanto attraverso macchine. Quindi catalogo, in qualche modo, in LinkedIn, Open Data, un sistema di condivisione dell'accesso all'informazione scientifica, tra tutti gli atenei che allora derivano, e poi naturalmente le piattaforme per l'editoria digitale. Questi diversi piani hanno tutti un massimo denominatore, che è dato dal fatto che noi volevamo, nelle diverse forme, sostenere la scienza aperta. E quindi in qualche modo adottare standard aperti e volevamo che naturalmente tutto ciò che in qualche modo passava attraverso la nostra iniziativa fosse liberamente accessibile. E' veicolato però attraverso, all'interno di canali più ampi, per cui abbiamo poi sempre curato che le nostre pubblicazioni, sia alle riviste, sia anche alle collane editoriali, fossero presenti nelle banche dati. Per fare questo naturalmente occorre anche un lavoro enorme, di confronto con le comunità disciplinari che realizzano le riviste. Allora come vedete, la collaborazione poi si sviluppa su una molteplicità di piani diversi, tra mille sfaccettature, tenendo anche presente i criteri di valutazione che in qualche modo incombono su di noi, a titolo diverso e che naturalmente con cui naturalmente non possiamo non fare i conti. Poi naturalmente ci sono anche, c'è la valutazione delle procedure che i singoli anche Atenei si danno, noi siamo in certificazione di qualità per intenderci, come Centro dell'Ateneo, dal 2007, quindi piani diversi che in qualche modo hanno anche richiesto un enorme impegno, diciamo così. Alle iniziative, alle nostre iniziative, aderisce anche la Società dei Naturalisti. Alle nostre iniziative, aderisce anche la Società dei Naturalisti, da qualche tempo, da oltre un anno, con una propria rivista e anche una collana. Dunque, in un contesto più ampio, accennavo, io prima facevo riferimento anche a questo catalogo in LinkedIn, che è Dopendeta, il catalogo è SHARE, SHARE è diventato questo insieme più ampio, qui naturalmente noi collaboriamo, che è SHARE VTE, di cui siamo parte, e come potete anche vedere ci sono le maggiori università anche del Nord America, ci sono molti centri del Nord dell'Europa e quindi in qualche modo questa dimensione cooperativa inevitabilmente non può non allargarsi anche in questa prospettiva. Naturalmente io ho risposto, come dire, al mandato che mi era stato dato, quindi di parlare sostanzialmente delle iniziative anche a carattere più fortemente innovativo. Al di là di questo, poi naturalmente c'è una lunga consuetudine anche di collaborazione, sia con le strutture di Mezzocannone 8, come sappiamo, sia anche con i colleghi poi anche di altre istituzioni cittadine, e vedo adesso l'Accademia, ho anche rappresentato l'Accademia di Belle Arti, in qualche modo ogni forma di collaborazione per noi è essenziale, come insieme, sia come centro dell'Ateneo per le Biblioteche, sia anche come insieme di Atenei che naturalmente poi hanno messo su di concerto questo tipo di iniziative. Criticità, quelle che possono in qualche modo emergere e che è anche bene in qualche modo avere presente. C'è spesso una tendenza, come dire, ad affermare i primati, c'è spesso una tendenza, come dire, a voler avere una visibilità specifica come singola struttura, che va bene, è comprensibile, però in una prospettiva di cooperazione si tratta anche di mettere da parte, come dire, l'esigenza o la volontà, come dire, poi di dare spazio alla singola istituzione. Io ora sto parlando io, come dire, a nome anche del consorzio, di questa associazione SHARE, di questa convenzione SHARE. In altri contesti lo fanno altri, perché naturalmente queste iniziative devono diventare a tutti gli effetti iniziative comuni, iniziative in cui ciascuno è parte di una comunità più ampia, altrimenti possibilità che in qualche modo reggano o abbiano successo finiscono con l'essere estremamente limitate. Vi chiedo scusa se forse ho parlato anche più del dovuto.